Musica Tanta guagna per tutti Chicchi bestia miei Tanta guagna per tutti Siamo tornati ragazzi Siamo tornati su Clash Allora, allora, allora Questo aggiornamento Ma parliamo di questo straordinario aggiornamento Come potete vedere Guardate cosa c'ho qui Spettacolo ragazzi Spettacolo, si l'ho preparata Ci volerano 4 giorni Ovviamente l'ho gemmata L'ho gemmata Perché volevo farvi vedere Il prima possibile Tutto quello che si può fare con queste pozioni Ma questo lo vedremo stasera Quindi non dimenticate stasera Episodio serale Sempre qua su guagna Ragazzi non mancate Allora, vi faccio prima di tutto Vedere una difesa della madonna Proprio di quelle straordinarie Abbiamo pareggiato la guerra Parra signori Pareggiato la guerra Una roba incredibile E altra cosa Di cui vi volevo parlare È il fatto che Attenzione Qua Mancano Le trappole Manca tutto qua Ok Abbiamo ripreparato tutto Abbiamo la go wipe Pronta Con addirittura Due pozioncine Ehm Due pozioncine Yes No, tre pozioncine Veneno Vi volevo far vedere La difesa Che ho fatto Veramente ragazzi Una cosa sensazionale Praticamente Sto sveglio di guerra qua Mi attacca con una sorta di go whip Missa male Ma guardate che figata Allora Attenzione Ha dell'incredibile Golem Golem lentissimo Che sta dietro Ovviamente Cominciano a sparare A dotta di collo Regina Che va subito giù Infatti L'ho odiata a morte Lascia guaritrice Con Un po' di maghetti E un po' di Barbari arcieri E addirittura qualche golem Cioè Mancavano veramente Mongolfiere E draghi E aveva messo Veramente di tutto Attenzione Perché qua Attenzione Perché qua Cosa succede Cosa succede Escono le mie truppe Del castello del clan E fanno Il delirio Il delirio Una roba ragazzi Veramente Una roba Allucinante Guardate che Che cazzarola Di danno Che fanno Veramente Incredibile Avevo Se non sbaglio Tre maghetti E tutti arcieri O quattro maghetti Una roba del genere Poi non erano nemmeno Maxati i maghetti Ma guardate ragazzi Che forza Che E Inaspettata Difesa Che vanno A fare Perché ragazzi Perché Se vi attaccano E avete truppe Come maghetti All'interno del clan Il drago Ragazzi Lo sconsiglio Perché comunque Sì È una truppa Che comunque Ha molta vita Però Se ci si accorge In tempo È molto facile Da eliminare Mentre per quanto riguarda I maghetti Uno dice Magari mischiati Agli arcieri Non si vedono Più di tanto E quindi E quindi Magari uno Quando attacco Dice Ma chi se ne frega Sto cazzo Attacchiamo uguale E via E invece Proprio lì L'errore L'errore Sta proprio Nel fatto Che uno Continua ad attaccare Nonostante Se ci siano Arcieri E maghetti Che veramente Fanno un danno Del porco Allora Andiamo a Questa era una sorta Di gugu wipe Che mi hanno fatto Io oggi vi faccio vedere Siamo saliti Addirittura A 2351 Volevo fare Ecco Perfetto Guarda Capita Pennello Questo è un villaggio Che va molto di moda Nell'ultimo periodo E praticamente A 4 quadranti Negli angoli E poi Va Con una Doppia Una tripla Muraglia A difendere Il municipio Quindi ragazzi Ci sono comunque 3 muri Ovunque Sia nell'angolo E sia Nelle Quindi diventa Molto difficile Attaccarlo Con go wipe Lo sconsiglio Se avete appunto Una go wipe Cercate di schippare Allora Questo è un 8 Volevo attaccare Almeno un 9 Per cercare Di fare vedere Un altro attacchino Con go wipe Viste ci siamo Oggi Difesa go wipe Attacco go wipe Veramente Cattivissimi Ci andiamo Cerchiamo di prenderci Almeno una trentina Di trofei Perché così Saliamo più velocemente Anche vero Ecco Questa scacchiera Ragazzi Vi ricordo Se ci avete 40 domatori Tirate giù 40 domatori Vincere facile Sono 20 trofei Facili Facili Il 10 Ovviamente Lo scartiamo A priori Perché comunque C'è sempre Sto cavolo Di torri infernali Al centro Questo potrebbe Essere potente Ma Quanti muri ha Ok Si può fare Sperando che non Abbia Un Cazzarola Di bubbolo Proviamoci Proviamoci Anche se è molto Estesa Come cosa Qui Se dovesse avere Le truppe Sti cazzi Perché li scarichiamo Il veleno Allora Direi di partire Attaccherei Uno qua E uno qua Anche se partirebbero Le tesla Il che sarebbe Un problema E quindi andiamo Uno E due Vai Maghetti dietro A sfondare Lasciamo tutto Vai 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 Sfonda Sfonda Vai così Vai così Chicco bestia Vai così Una bella Pozza Cura E passa La paura Signori Passa la paura Vai così Vai così Si ma Saltatelo Sto muro Raga E che cazza Rola Che sta da fa Che sta da fa Dai Namoc Namoc Entrate ragazzi Entrate Sfondate giù tutto Sfondate giù tutto Ecco ma rimaste le puzze Nivellino che non ci faccio assolutamente Dove è andato Dove è andato Re Barbaro Raga sfondiamo Sfondiamo Dai Dai No Va bene va bene Andata Abbiamo ancora Le truppe che fanno danno Attenzione Peccato Peccato qua Peccato qua Si sono dispersi un po' troppo Qui i maghetti Maghetti si sono dispersi un po' troppo Infatti stiamo subendo L'ira L'ira funesta Del Dei due Mortai Porca paletta Paletta porca Dai regina Veloce però Dai porca paletta Veloce Rilasciamo Fuoco 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 di copertura Vai guardate il pecca ragazzi Potentissimo Vai che ce la facciamo Dacci ste tre stelle Dacci ste tre stelle Eh vabbè ma porca paletta Sfondiamo o no Dai Dai Buttalo giù Buttalo giù Buttalo giù Bravissimo 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 Due stelle fatte 90% Se magari Dai 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 che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo No no Ho perso Ho perso il danno Ho perso il danno Ho perso il danno Ho perso il danno Attenzione Attenzione C'è ancora la regina Ancora la regina Ce la possiamo fare signori Mamma mia Mamma mia No 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 Il maghetto Madonna la regina Salva tutto la regina Salva tutto la regina Vediamo Ah il danno Non gli faremo danno Nemmeno per sogno Credo che Con una bella botta di culo Ce l'abbiamo fatta Vai regina 52 secondi E il 100% Per mister black 25 trofei Portati a casa Davvero Ci ha salvato Il golem ragazzi Se avete notato È rimasto il golemino Eccolo qua su È sparito Va a cagare Veramente ragazzi È un bel attacco Anche questo Proprio Proprio Perfetto Forse l'unica cosa Non ho capito Perché inizialmente Ci abbiano messo così tanto I golem non sono entrati A sfondare Sono rimasti Praticamente Incastrati lì Infatti non l'ho capita Questa cosa E nonostante Abbia tirato subito La pozione salto Questa è una cosa Un mistero Avevano detto Che tra l'altro Negli aggiornamenti Se vediamo un attimino Negli aggiornamenti Hanno modificato Anche la regina E per quanto riguarda I reali Sia re e regina Hanno modificato Il Hanno migliorato L'intelligenza artificiale Della regina Infatti Solitamente Andavano anche A A bloccarsi Dov'è che era Aspetta Tempi addestramento Minimamente Ia Meno probabilmente Che le truppe Ed eroi Bersagli Inutilmente Delle mura Inclusa la regina Degli arcieri Di fatto È quello che è successo Poco fa O nell'ultimo attacco In guerra Infatti ho fatto Un attacco Ragazzi Veramente No Non l'avevo fatto io L'attacco Non mi ricordo Chi l'avesse fatto Ma era un attacco In cui si bloccava Proprio Cioè la regina Si era proprio Fossilizzata A sparare Nonostante ci fossero Altri due mure Aperti Ma fortuna Che hanno fatto Aggiornamento Ma su via Non è questo il problema E oggi ragazzi Io termino qua il video E poi In serata Vi faccio vedere Un'altra piccola cosa Riguardante questa cosa qua Ragazzi Una cosa potentissima Ve la faccio vedere dopo E Spero che vi sia piaciuto Questo video Non dimenticate Di spolliciare 5.000 like Per il prossimo video Che vi faccio vedere Magari altri attacchi E Tanta tantissima guagna Per tutti Spolliciate per l'ascolato Che a mente Mica per altro Fate finta che Commentate Kikko Se è un bestia Kikko bestia E niente Ciao Kikki Ci vediamo stasera Nel serale Tanta guagna per tutti E al prossimo video Ciao Ciao